Prima una locandiera goldoniana rispolverata in salsa metateatrale, poi pensi a un bel vedere, uno spettacolo di maschere muto che senza parole ha affrescato le vicende di una pensione per anziani. Matteo Spiazzi ha conquistato così la Bielorussia facendo approdare i suoi progetti internazionali nei teatri più noti del paese, ma non è finita perché l'Est Europa torna ad applaudire il regista veronese. Il trentenne ha infatti dato alla luce e persona uno spettacolo nato, pensato e realizzato in Estonia. Mi è stato chiesto, l'anno scorso ma il progetto è cominciato quest'estate, di fare questa nuova produzione con una compagnia estone che si chiama Misansen, che è una compagnia indipendente. Il riconoscimento nella terra baltica non si è fatto attendere. Entrerà a far parte del repertorio del Curesa dell'Inna Teatre, che è il teatro principale dell'isola di Saarema, che è la più, chi non lo sapesse, la più grande isola che c'è in Estonia. Il suo spettacolo piace anche nel bel paese. Lo scorso 19 novembre infatti ha vinto un riconoscimento durante il premio nazionale giovani realtà del teatro a Dudine. Ad attrarre nel lavoro del giovane autore è l'attenta ricerca che indaga il concetto di maschera. Quattro ragazzi, un appartamento e la folle ricerca della propria identità. Persona è non a caso il titolo. Abbiamo scelto questo titolo non solo per fare un omaggio a Bergman, ma anche perché persona ha un'etimologia molto interessante. Persona è il nome che davano i latini alla maschera. Livella lo scoglio linguistico con una drammaturgia muta che risponde ad una precisa poetica. Mi affascina, mi intriga molto la drammaturgia senza parole. Diciamo che è anche un modo molto interessante e intelligente per lavorare con una compagnia estera dove c'è una lingua che io non conosco come l'estone, che è una lingua ugrofinnica addirittura.